E' partita la battaglia tra il senior e gli under 23, 53, la zona di partenza Aller, aller, aller Aller, aller Aller, aller Aller, aller. Aller, che via. Aller,ระ Foster! Aller,aller,aller! Gallo, va, va, cosa torta per me bringer. Per quanto riguarda, l'Oltistero sta mettendo velocemente questo cambio, la seconda poi, Antonioli va alla seconda adesso in questo momento. E parte ufficialmente la categoria senior under 23 al femminile 29 atlete in gara 20. I senior under 23 women in categoria e saranno meno battaglia. Un'altra parte. Grazie a tutti Per Alba del Silvestro il podio della categoria A